ciao ragazzi benvenuti a tutti in un nuovo io ragazzi io sono fox e oggi vi porto in una grande fabbrica dove vanno a costruire i pannelli solari fotovoltaici ragazzi se non lo sapete il mio canale tratta di tecnologia tratta di fai da te tratta di energie alternative iscritti se non sei iscritto se apprezzi il mio lavoro abbonati e seguimi anche sugli altri miei social andiamo con il video grazie a tutti 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 grazie a tutti